Il Mio Burger è un concorso davvero unico. La prova? Non è uno, non sono due, né tre, ma ben quattro i vincitori. Le loro ricette si sono imposte su 20.000 proposte. Questa settimana festeggiamo il Dagi Burger di Daniel. Con il miglior formaggio d'araclette, carne di manzo svizzera e salsa fondue. Il Dagi Burger, adesso da McDonald's.